Buongiorno signori, sono ammiratrice di Letizia Moratti perché ho visto tutte le opere che ha fatto a Milano e senz'altro di miglioramento e soprattutto sono appena uscita da Misea del Novecento e mi è piaciuto moltissimo, è un'opera grandiosa, veramente interessante. Mi chiamo Gianfranco Aloisi e voterò senz'altro per la sua. Grazie signora.